Ciao a tutti, io sono SuperBuzz e questa è la ventitresima missione di Populous The Beginning Ci siamo lasciati che avevamo appena sconfitto la tribù rossa Quella che a mio parere era la più pericolosa Massacrando un po' il loro villaggio, si Gli abbiamo sparato più o meno un po' di tutto, quindi Ben per loro Ehm... Qui abbiamo bisogno di più case Però non credo che ci sia più legna per queste cose Eheee Qui niente Lì, oddio, quanta gente che vedo Quanta gente Che morirà E moriranno tutti Gli ho visti, gli ho visti Sono proprio pronti a morire tutti quanti Ci buttiamo solo la verde? Sì, dai la gialla non è mai più Aiuto Dato per range bin Bye bye Va bene, va bene, me ne vado, me ne vado Ma voi siete morti Boom Tagliata a metà la montagna Questo può cadere Direi che sono morti tutti tranne la sciamana Oddio Mi stanno attaccando Proprio così Di cattiveria, quindi Torniamo un attimo In base Ah, sono arrivati via nave Questi che non stanno facendo niente Tutti qui Allora In qualche modo Oddio No, cosa fate? Oddio Ok, qui sono a posto Difeso Qui non ho più bisogno di Di questa Non ho più bisogno di questo passaggio Che è tanto Soltanto un buon passaggio per loro Per me non è più un cazzo Oddio, beh Quello che ho visto Sembra interessante Ho visto io qualcosa di interessante Ma cos'è? Smetti di bruciarmi La roba Cosa vuoi bruciare? Ma cosa stai bruciando? Non ti posso neanche attaccare Perché sembri il mio alleato Però ho visto che qui C'hanno tutte le loro Fottutissime casette E E qui Mi dice Cosa ci sparerei sopra? Perché dobbiamo passare Dove sono difesi Se possiamo passare Dove non hanno niente Dico io Andiamo dritti al sodo E spacchiamogli il culo No ma cosa che serve A farlo da lì Ora questo Qui E questo Qui Ok E ora spariamoli proprio in mezzo Qui Ok Questa è una bomba Però gli rubiamo una barca Foga Oddio ci inseguono Sono belli Sono belli Questo è terremoto Si è bloccato Anche ma Ma che era soltanto Un piccolo Trappello Sono un po' di questi Oh fuck Sono morto Sono morto No Spariamo l'angelo della morte Tutto così Prima vorrei sparare Qualcos'altro Tipo Allora questo Può farsi friggere E quella barca è andata Dov'è che è l'altro Gli altri simpaticoni gialli Quelli che continuano a mandarmi Navi su navi Sono su un'isola proprio Aia Pocca magia Questa Non so Mi sembrava abbastanza Carico Questa Questa In cinema A quanto pare Non lo è eccessivamente No Cannato completamente Come facciamo Se io gli blocco qui In qualche modo Mettiamo questo Così dopo li attacchiamo Un po' da dove vogliamo Intanto Qui Sono incasinati di brutto Si difendono tutte le coste Bellissimo Ok risparmiamo un po' su questo E buttiamo qualche paludio in più Questo è molto meno costoso Dissorgiamogli tutto E poi pensiamo alle unità Voi Voi Boom Boom Morto Ciao La sciamana Qui continua ad attaccare Ma perché Che palle Ok Tutti qui a ballare Intorno alla sciamana Ok prendiamo un'altra barca Ce ne sono ancora E mandiamo una spedizione di Quattro guerriere del fuoco Con lei Ok Carico Sto tutto Eh dobbiamo E dobbiamo Proprio Andarci a cattivi Adesso Vorrei caricarmi meglio Però Piuttosto Qui ho visto che non è riuscito a collegarvi I due lati del Del promontorio Vi do una mano Se volete Guarda Non così gentile Così Ho visto Siete collegati adesso Non siete contenti Allora Come facciamo Visto che è vicino al mare Possiamo fare anche così Oh Tanta gente Così Perfetto Oh si stanno Regruppando tutti Niente pure Ortenga Oh come cazzo Si dice Distruggi tutto Si 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 Qui Ci diamo un po' di gente varia Ho sfasciato Tutto Si muovono a morire Oh Sono quasi tutti in acqua Ma lascia la mano Vida Lascia la mano Vabbè Infamozza Affondate Affondate Yeah Oh Trampo posso entrare direttamente in casa loro in barca Sembra Venezia sto posto ormai Guarda che roba Ma vene sia Puff Ma chi vince Colpo volante Vinco io Facciamo una cosa Che vedo che Dobbiamo ripulire Da tutto Quindi È l'ora Del Giolo della morte Dai vai a prendere gli altri Gli abbiamo distrutto tutte Le case Tutto Quanto Possiamo tranquillamente Pensare al resto Cioè uccidere tutti Ti stai attaccando Vabbè Ma fai cure Oh C'è ancora Shami Aia Mi ha fatto male Va bene Pensaci tu E Direi che qui manca Qualcosa Tipo qui Sì Testamento Sì Io salto Ma tu muori Vediamo un po' Cosa rimane Un andato L'altro va Sì E Cosa rimane Poca gente Spero ormai Nel senso Manca Tipo qui in questa casa Qualcuno E l'ultimo E quello Sì Quello era l'ultimo Direi proprio Che era così Ora Senza Togliamo tutte queste paludi Questo posto Lugubre E Tutti 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 Questi qui Ah Da combattere Non è mai sazio L'angelo della morte Madonna Non so Dovrei fare un po' Più di Popolazione Quindi facciamo Tipo così Qui in qualche modo Troveremo Stanno attaccando Il mio angelo della morte Bastardi Vi crea un Torna Strugo tutto Ma vabbè I giri che si vuole fare Lei sono sempre Molto personali Deve girare intorno al mondo Per andare in certi posti Non so Ma casa Che stai facendo Vai qui Un bug Dove essere Quel punto Non lo so Guarda Dove sta andando Perché devi girare intorno al mondo Cioè E' qui a due passi Se gli dite Di fare un percorso Troppo lungo No Decide lei Che Cioè Un posto lontano Decide di fare il percorso Più lungo Giustamente Struirei Giustamente Perché Vabbè Ciao Però Non ho più barche Vabbè 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 Tutti qui Please Ops Semana Cerchio della morte Ok Ora Come ci arriviamo Alla Vabbè Qui Prendiamo 5 E li buttiamo qui Ma che cosa Serviranno Gli ho chiuso Sette le barche Lì Ottima idea Non riesco A giungerli Direi che abbiamo Completato Però Ci abbiamo Poca popolazione Probabilmente E Vabbè Nelle case Al lavoro Guadagnano Di più Ma anche Questi qui Guadagnano Un po' Di No Non è Vero Quindi Entrate In casa Vediamo Sì Rega Bello Si riempiono Le case Per quando Voglia Li richiamo Easy E qui E qui Ok No 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 Così no E vai Siamo al punto di partenza Sarà Sarà lungo Altri punti per raggiungerlo Qui Andiamo Andiamo Sembra anche più figa Quella entrata C'è tipo Arrivi da dietro BAM XP Spicchi Backdoor Backdooring Like Spicchi Si è più corto Dai Sono tutte piene le case Vediamo Dall'alto Si Sono piene Ce ne sono poche Perché Mi aspettavo Che ci fosse più spazio Ci potevo occuparlo Anche meglio Mi aiuto a fare tante cose meglio Ma Ormai Va bene così Dovete andare tutti qui Nel frattempo Eh ok Sblocchiamo sto vulcano Che Ok Sembra perfetto Salito il ponte di terra Appena Appena abbiamo questo vulcano Lo spariamo qui in mezzo Massacra Li faccio Oh A qualcuno non piace che io sia qui E qualcuno cercherà anche di uccidermi Per questo Via 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 Voi qui Aiutatemi Aiutate la vostra sciamana Così questo qui non arriverà mai Non ci metto soltanto i predicatori A rompersi le palle Pregano Perché sono dei predicatori No Nice one Nope qui che cosa c'è qui costruiscano le case mi sono concentrato poco sulle case sto giro molto meno del solito ma volevano predicargli però alla fine sono stati predicati in faccia quanti cazzo sono va bene attacco preciso e pulito grande tecnica delle paludi colpisce ancora e ora parattanca ho fatto parattanca parattanca ok sei morto non ti preoccupare hai fatto il tuo dovere distrugge tutto c'è vulcano adesso continuiamo la parola di massacro voi venite pure qui qui ci vuole ancora un po' addendum non ti arrivo tu 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 chi tu 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 boom schiacciata in acqua Debran Jane scolpisce ancora Sembrava un po' tipo una schiacciata Struggi tutto Non deve rimanere nessuno Le regole del gioco Ok ma dire che abbiamo quasi finito Ma poi l'ho vista l'ho vista l'ho vista Eccola Che colpo ragazzi E tutto Vabbè prima o poi qualcosa arriverà Ci 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 Direbbero i guerrieri per sfondare velocemente le città però Bene anche così direi Qui non dovete proseguire oltre Andate avanti Perché dovete distruggere tutte iscriviti ... ... nope that's not a strike, this is it ragazzi, vostra sciamana è in pericolo, aiutatela no, non mana per niente, ma cosa fanno? cosa sto facendo? wow, è stata decisamente due ore per ottenere quella magia? no, stiamo scherzando, vero? vabbè, bilanciato, ci metto meno a fare altre cose dai sì, lo sento che c'è qualcuno su team speak, non devo rompere il cazzo mentre registro sono mutato apposta che se ne frega del cazzo spero, tutto ormai spariamo palle di fuoco a caso, ma poi qualcosa verrà fuori si spera oh, quello è l'ultimo, quello è l'ultimo, quello è l'ultimo, quello è l'ultimo sciamana, uccidi stang ah, c'era ancora la sciamana lì ciao sciamana yeah siamo riusciti a sconfiggere tutte le tribù anche questa volta ci sarà la prossima volta, la ventiquattresima missione quindi preparatevi ormai, ne rimangono soltanto due e l'ultima sarà epica, ve lo prometto sarà qualcosa di epico se vi piace il gioco o la missione vi farà impazzire quindi ci vediamo alla prossima, ciao ciao